Ciao a tutti, allora video prodotti finiti, ebbene sì siamo all'inizio di luglio, sta facendo il video prodotti finiti tipo non ci si crede, non ci si crede, lo so, lo so, è una cosa un po' strana peraltro non sono in giardino, gli ultimi prodotti finiti li ho fatti sempre in giardino ma voglio dire, ho il ventilatore puntato addosso, provo a farlo qui in casa perché ormai è tardi peraltro scusate che ho tipo la cofana in testa ma c'è un caldo, è tornato, è tornato il caldo allora, andiamo subito al sodo, non è che ho da dirvi tantissime cose questo mese, ho finito meno prodotti perché si sa, ci sono dei mesi in cui ci rimangono più fondini e quindi vanno tutti ad essere eliminati e mesi, un po' così, allora veniamo al, partiamo dal viso, partiamo dal viso, allora siero viso al latte di bufala di questa brand che si chiama Piubi, sì Piubi.it ed è di Corigliano Calabro è un'azienda che non mi ha inviato i prodotti ma questi prodotti mi erano stati regalati da un'amica io li ho provati, mi sono piaciuti parecchio, avevamo provato anche il siero alla moringa anche quello era buono, anche questo al latte di bufala buono, buono in che senso? nel senso che già da solo d'estate effettivamente dà quella giusta idratazione che se avete addirittura non una pelle secca ma medio mista, grassa, già bastava quello poi, sempre per il viso, ed era la confezione, ecco, conservato è questa qua siero viso al latte di bufala dice praticamente che contiene il latte di bufala con una percentuale di grasso e proteine superiore a qualsiasi altro tipo di latte e in più aveva olio di argan e acido ialuronico ed era per pelli mature io non lo sapevo, se no ovviamente mai l'avrei utilizzata dunque, poi, altro siero viso il Fospid Serum sapete che io ho impostato tutta la skin care primaverile con i prodotti della Skinny l'ho trovata molto bene e questo era il siero a dire la verità non l'ho usato da sola, l'ho usato insieme a Pablo ed è, ah, intanto il Fospidin che loro ho ritrovato la loro formula registrata appunto e contiene però fosfolipidi e glucosamina e glicosaminoglicani se non sbaglio insomma, tutto è praticamente dei componenti che vanno a rinforzare la pelle era un siero mattino e sera e questo è addirittura una cosa strana perché loro dicono viso, collo, decoltè, seno, interno, braccia, gomiti, mani, glutei, interno, cosce, ginocchia in sostanza tutte le parti in cui si voglia rigenerare la pelle mi è piaciuto, un buon prodotto peraltro mi piace anche il fatto che di questi prodotti si usa veramente tutto fino alla fine perché nonostante voi vedete la boccettina di vetro dentro in pratica contiene una sorta di sacchettino dal quale il prodotto è contenuto quindi non se ne deposita per niente nelle pareti non si spreca nulla perché praticamente man mano che voi schiacciate il dosatore il sacchettino viene risucchiato di prodotto cioè si risucchia il prodotto dal sacchettino quindi sempre della stessa linea abbiamo terminato dico abbiamo perché le abbiamo usate insieme l'H2O e la Shatui praticamente sono due creme che noi abbiamo deciso di utilizzare come crema giorno e crema serale la H2O è una crema viso anti-aging idratante, levigante, energizzante mentre l'altra è una sempre anti-aging ma nutriente, rigenerante, rassodante e quindi diciamo che per farla un po' breve questa è più una crema idratante questa è più una crema nutriente e questa qui è molto 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 corposa mentre questa è molto più leggera è una classica crema idratante quindi la utilizzavamo di giorno questa per me è diventata veramente troppo ricca da quando è scoppiato il gran caldo a Pablo piace moltissimo ho detto quella è veramente molto buona che già esprimerci voglio dire già è tanto mi stanno crollando i capelli perché di solito gli uomini a cui si chiedono pareri sui prodotti dicono è buono punto, nient'altro e questo è quanto abbiamo anche finito o comunque è agli sgoccioli quindi lo inserisco perché ormai credo che stia proprio terminando il Progressive Antirid di Carita che è praticamente il loro contorno occhi questo dovrebbe essere un super contorno occhi per rughe, occhiaie e borse e devo dire che mi sembra un buon prodotto anche se i miracoli non me li aspetto assolutamente da una crema così contorno occhi semplicemente posso dire che mi ha idratato molto bene il contorno occhi pre-trucco quindi io di solito l'applico anche se l'ho già riapplicata la mattina se mi trucco più tardi tipo oggi mi sono truccata più tardi l'ho riapplicata perché non riesco a truccarmi se non ho applicato il contorno occhi proprio al momento se no mi tira il trucco non rende nemmeno bene ho un contorno occhi molto secco e ha fatto il suo dovere poi con le cose viso ho finito passo a un amore che dura da sempre perché io uso da sempre questo prodotto e ciclicamente lo ricompro non vi cito tantissimi bagnoschiuma ne consumo giustamente più di quelli che vi mostro però secondo me lui è nella top 5 dei migliori al mondo il profumo è incantevole è un classicone e quindi l'ho inserito ve lo volevo far vedere così come per me un classico è il borotalco deodorante per me uno dei migliori ovviamente ha il profumo classico di borotalco che se vi piace cioè voglio dire lo adorate zero alcol ed efficacia 48 ore un appello non testate le 48 ore vi prego fate prima lavatevi e dopo qualche ora riapplicate il deodorante non portate cioè non fate questi test non li fate abbiate pietà di noi che affolliamo le metropolitane peraltro ne ho due ma ve ne faccio vedere uno solo poi Yves Rocher ho finito bagnoschiuma che dovrebbe essere adatto al periodo di Natale arancia candita e cannella è un profumo veramente super natalizio ma era lì che implorava pietà per essere finito dovete sapere che io ho una persona in casa chiamata Pablo che non finisce i bagnoschiuma o gli shampoo o qualsiasi prodotto forse la crema è un po' di più abbia superato diciamo un quinto del prodotto perché è allergico a terminare le confezioni passa alle nuove io odio sta cosa mi sono terminata questo prodotto che giaceva lì e chiedeva proprio pietà uccidetemi abbiamo finito questo dentifricio ve lo mostro perché mi era stato omaggiato al Cosmoprof è un gel alla loe triplazione di equilibra mi è sembrato un dentifricio buono ma ecco non non mi ha stupito particolarmente Pablo ha terminato il bottega verde o de toilette per lui questa coi baffi era una confezione che c'era stata inviata per San Valentino avevano fatto la confezione per lei e per lui siccome Pablo si fa il bagno col profumo aveva non vi dico quanti profumi perché veramente ne ha ricevuti tantissimi gli hanno regalato io uno per Natale troppa roba beh le ha terminati tutti questo però probabilmente tra quelli utilizzati ne aveva veramente di ottimi è stato il mio preferito forse anche il suo secondo me ha un profumo divino per uomo ovviamente io non me lo metterei ma è veramente molto buono è fresco ma ha quel pungente che secondo me il profumo da uomo deve avere è stra buono era un 50 ml non so se per lui è stato uno dei preferiti che dici poi arrivo a un qualcosa che no bocciatissimo non l'ho neanche terminata la metto qua perché molte altre ragazze ne avevano parlato le avevano consigliate e io invece le boccio sono le candele di Primark che costano soltanto un euro questa è la numero 21 white tea e lino ha un odore stratosferico quando la comprate poi però ragazze la accendete non sa di niente quindi assolutamente per me è super bocciata non compratela perché non serve a niente questo mese non sono stata brava devo recuperare infatti stasera mi struccherò e la farò parlo delle maschere ne ho ancora di quelle del kit ebay da terminare questa è una di loro la seaweed credo che sia l'alga sono maschere idratanti della malie che è appunto malie system è un brand appunto coreano che però qua dice new york seul tokyo pechino e parigi quindi probabilmente avrà anche dei negozi in queste città queste maschere sono stra buone sono veramente ottime non aspettatevi di metterla e poi toglierla wow sono un'altra persona sono maschere secondo me prettamente idratanti quindi se vi serve un surplus di idratazione se avete spesso la pelle disidratata e avete bisogno quindi di idratarla a fondo maschere del genere sono veramente la manna dal cielo e ve le consiglio tantissimo poi ecco stavo cercando lui il fondo di neve cosmetics il flat perfection nella colorazione medium warm l'ho finito completamente residuava praticamente un bordino qua intorno che si è rotto l'ho messo dentro una confezione vuota di cipria di brochet e lo sto utilizzando ma sono proprio dei pezzettini proprio per dire che non butto il prodotto insomma adesso mi scoccio e comincio ad utilizzare l'altro perché ho un'altra colorazione che è la medium neutral questa qua era neutro questo qua invece era caldo quindi il medium warm e ho utilizzato di più questo perché mi sembra piatto al mio colorito ma anche questo non è che vada male è neutro io sono spiccatamente gialla però adesso lo proverò un prodotto che mi piace moltissimo peraltro vi ho fatto un video recentissimo che vi lascio qua in scheda dove vi faccio vedere come faccio una base veramente cioè una base un make up veramente super 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 leggero nei giorni in cui c'è veramente tanto caldo e utilizzo prodotti di questo di questo tipo quindi fondi compatti ve lo lascio qui se vi vi fa piacere questo è un prodotto quindi insomma per farla breve super promosso coprente al punto giusto mi dà un buon risultato anche nella zona con tornocchi non mi segna particolarmente pur non essendo diciamo la cipria con cui di solito faccio backing che è molto è in polvere libera è molto più micronizzata però questa non dà assolutamente un brutto effetto poi ragazzi chiudo questa carrellata con un prodotto che non è beauty ma che vi volevo menzionare perché non so se molte di voi lo sanno però io ho cambiato macchina da poco vi avevo detto che dovevo vendere la mia vecchia smart avrei comprato una nuova smart l'ho trovata l'ho comprata però io ho proprio la fissa ma più di me ce l'ha addirittura Pablo di igienizzare il sistema di ventilazione quindi il sistema di aria condizionata non mi ventiva scusate perché voi sapete che nei filtri dell'aria condizionata ma anche quelli casalinghi si annida di tutto vanno igienizzati quindi vanno fatti igienizzare perché se no rischiate veramente di ammalarvi di respirare delle schifezze e io avevo preso questo prodotto che è un deodorante auto per climatizzatore di interni auto della V5 alla Lidl ma Pablo l'ha trovato praticamente identico alla Carrefour e so che lo fanno un sacco di marche alla Carrefour c'era a partire dai 3,99 euro fino ai 10 euro circa ne abbiamo preso il più economico e questo anche alla Lidl costava poco vedete che sembra uno spray normale tipo deodorante in realtà voi lo premete e lui inizia da solo ad erogare il prodotto quindi voi lo lasciate al centro della vettura accendete al massimo il sistema di ventilazione dell'aria condizionata con il ricircolo interno questo emette un odore buonissimo tipo di limone e entra nel circolo dell'aria condizionata perché poi lui continua praticamente per circa un quarto d'ora a buttare fuori un getto quindi l'auto si riempie del prodotto che esce nebulizzato da qui sotto forma di spray appunto tipo un deodorante e entra nel ricircolo e vi igienizza il sistema di ventilazione e poi dopo non so se vi è mai capitato di avere delle auto che tirano fuori la puzza dal sistema di aria condizionata invece poi dopo non puzzerà assolutamente più è igienizzato e anzi profumerà e quindi questo ve lo volevo consigliare perché questo è un momento in cui tutte stiamo usando l'aria condizionata e questo sistema qua mi sembra veramente ottimo e basta io credo di avervi detto tutto mi sto guardando intorno ma non vedo nient'altro di terminato o almeno io non mi ricordo di aver terminato altro però insomma questo video mi piace sempre tanto lo trovo sempre quando guardo poi le statistiche di visualizzazioni quasi tra i video più graditi quindi mi fa molto piacere se anche questa volta vi è piaciuto mi lasciate se vi va il vostro like se non siete iscritti al canale potete farlo qui così vi vedete questo video eppure tutti gli altri che arriveranno perché dai iscritti al canale vi arriverà la notifica vi apparirà insomma nella lista degli iscrizioni questi sono alcuni dei video caricati ultimamente e mi raccomando ci vediamo qui domani perché in luglio un video al giorno e quindi tutti i giorni ore 14 trovate il mio video ci vediamo domani ciao